Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 Questo è il momento dei metamorfosi in viola Allora, qui con l'esponente dei metamorfosi in viola c'è il nostro Paolo Roberto Falcao Oh, eccomi, io sono qui con Simone, esponente dei metamorfosi in viola Bentornato Simone, in quanto loro sono già stati i nostri ospiti Come va Simone? Tutto bene? Benissimo, grazie, è un piacere essere qui Dunque, questa sera ci delizierai con un brano che si chiama American Dream, giusto? Preso dall'album Kairos Sì, è l'ultimo demo che abbiamo registrato presso Nord Dakota del nostro amico Manuel De Petris Quindi sono contento di poterlo cantare, American Dream si chiama Dunque, presentiamolo come talento della notte romana Questi sono i metamorfosi in viola Radio Radio By Night Roma presenta il nuovo talento della notte romana Radio By Night Roma Sông c'è, il sommo il tempo non ne ho più da perdere, se io ne avrò di più, io ne sarò felice. Sei di fronte a me, mi guardi già, non insisterei, non lo farai, io ti abbraccerò, tu mi abbraccerai, non insisterei, non lo farai. Non lo farai, non lo farai, non lo farai. No lo farai. Non lo farai, non lo farai, non lo farai, non lo farai. Per me, per me, per me. Per me, per me, per me. E allora, questi erano i metamorfosi in viola. Allora, ricorda, proprio guarda, ti giuro, sono cattivissime a stasera, ricorda velocemente dove possono trovarti? Non ho capito, scusami. Dove possono trovarti? Allora, su myspace, www.myspace.com, slash metamorfosi in viola band, o se no su YouTube, o se no sul portale di zona della provincia. Radio, radio, bi-night Roma, 104.5.